L'uscita del remake di Resident Evil 4 è forse uno dei momenti più importanti dell'anno. A quanto pare ci troviamo di fronte a un potenziale gothi e Capcom sembra confermarsi come una delle software house più talentuose quando si tratta di reimmaginare i suoi grandi classici del passato. Eppure sono sicuro che, come me, tanti di voi hanno accolto la notizia del remake con una certa diffidenza. Resident Evil 4 è un capolaporo che non ha bisogno di essere rimesso a lucido come il secondo capitolo ed è uno dei titoli più influenti degli ultimi 20 anni, il gioco che ha ideato e riscritto le coordinate degli action in terza persona. Certe operazioni vanno trattate con estremo riguardo perché è un attimo sbagliare il tiro quando si tratta un mostro sacro del genere. Però proprio per questo, visto che parliamo di un mostro sacro, di un intoccabile del mondo dei videogiochi, ho deciso in questo video ricchissimo di celebrare il ritorno di Resident Evil 4 proponendo una retrospettiva completa sulla sua genesi. Perché quello che da sempre è giustamente considerato come un titolo rivoluzionario non è di certo uscito fuori dal nulla, ma è anzi frutto di anni di gestazione, passi falsi e ripensamenti. Preparatevi perché la storia di Resident Evil 4 è piena zeppa di colpi di scena, litigi, promesse infrante e teste mozzate. Ma teste mozzate vere, non di zombie. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale per mettervi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del poroverso. In descrizione trovate tanti links, tutti quanti da cliccare, mi raccomando, fatelo. Io ho detto tutto, iniziamo! La serie di Resident Evil ha sempre avuto uno sviluppo problematico e sono due le figure chiave da cui partire per inquadrare la genesi di Resident Evil 4, Shinji Mikami e Hideki Kamiya. Dopo il successo del primo Resident Evil, o Biohazard come è conosciuto in Giappone, Capcom chiese a Mikami di diventare il producer della serie e iniziare a tenere d'occhio più progetti contemporaneamente. Mikami scelse come director di Resident Evil 2 Hideki Kamiya, un talentoso artista che aveva svolto il ruolo di storyboarder per le cutscene del primo capitolo. Il rapporto tra i due fu da subito molto conflittuale e gli scontri sulla direzione che il progetto avrebbe dovuto seguire non mancarono, ma fu proprio questa determinazione, cocciutaggine, unite a uno spiccato senso artistico a convincere Mikami che Kamiya era l'uomo giusto per prendere le redini della serie. Gli stessi problemi però si presentarono anche durante lo sviluppo di Resident Evil 2, con Mikami che non sposava la versione di Kamiya, che dalla parte sua chiaramente non era interessato all'aspetto horror di Resident Evil. E per capire come si è arrivati a Resident Evil 4 è importante partire da questo momento, perché durante lo sviluppo del secondo episodio emergono dei fattori che si trascineranno lungo tutta la serie. In primis il rapporto conflittuale tra Kamiya e Mikami, ma anche la crisi di identità di una serie che era nata come un survival horror, ma che già dal secondo capitolo puntava a diventare qualcosa di molto più frenetico e adrenalinico. Lasciando carta bianca a Kamiya però, Mikami si rese conto che il lavoro svolto dal team mancava di mordente, e insieme al supervisore Yoshiki Okamoto i tre decisero di scartare tutto quello che era stato fatto fino a quel momento, e ricominciare da zero con lo sviluppo del sequel. La build, completata ormai intorno all'80%, viene ricordata oggi come Resident Evil 1.5, un passaggio intermedio di cui sopravvisse poco o nulla nel prodotto finale che conosciamo oggi come Resident Evil 2. Mikami e Kamiya si avvalsero della penna di Noboru Sugimura per riscrivere completamente il copione del gioco, e segnatevi questo nome perché tornerà molto utile fra poco. Comunque, nonostante tutti gli inconvenienti e gli ostacoli, Resident Evil 2 si rivelò un vero successo, superando anche le vendite del primo episodio. La serie quindi era ben lungi dall'essere conclusa, e Capcom iniziò a investire ancora più risorse nella creazione di nuovi titoli. Mikami si ritrovò a dirigere uno spin-off del secondo episodio, di cui avrebbe ereditato molti asset, che veniva internamente chiamato Resident Evil 1.9 a sottolinearne la vicinanza. Kamiya invece accettò di dirigere il terzo episodio, ma solo perché Mikami gli confidò in gran segreto che quel gioco sarebbe stato sviluppato per un nuovo hardware, la PlayStation 2. Kamiya, impressionato dalle specifiche tecniche della piattaforma, sentiva che il suo estro creativo non sarebbe stato più limitato dall'ormai superata PS1, e accettò la sfida di buon grado. Ma Capcom, tramite Okamoto, intervenì di nuovo per scombussolare la situazione. Convinto che un sequel fosse meglio di uno spin-off, obbligò Mikami a trasformare Resident Evil 1.9 in un sequel diretto, e da qui il motivo per cui Resident Evil 3 Nemesis riutilizza tanti degli asset visti nel gioco precedente. E così, più o meno nel 1999, il terzo episodio di Kamiya, quello next-gen, divenne improvvisamente Resident Evil 4. Mikami, fortemente contrario alle decisioni prese dall'azienda, convinse comunque Kamiya ad eliminare l'elemento horror da Resident Evil 4. Per il director, infatti, arriva un punto in cui il pubblico diventa stanco dei film dell'orrore, e 3 è il limite massimo da raggiungere. Resident Evil 4 doveva essere qualcosa di completamente diverso, un titolo action, e ancora una volta fu lasciata carta bianca a Kamiya, e ancora una volta questa si rivelò una scelta molto azzardata, perché il director di Biohazard 4 prese alla lettera le parole di Mikami, partorendo qualcosa di mai visto prima. Le atmosfere horror sci-fi di Resident Evil lasciavano spazio all'occulto e al sovrannaturale, in una trama ancora una volta scritta da Noboru Sugimura, che vedeva come protagonista Tony Redgrave, il detective più cool di sempre che otteneva dei poteri sovrumani dopo l'esposizione a un virus. Per abbracciare l'impostazione action, Kamiya si servì delle potenzialità di PS2 per abbandonare i fondali prerenderizzati e implementare un sistema di telecamere dinamiche che avrebbero seguito l'azione in tempo reale. E anche in questo caso, quando Mikami visionò lo stato del progetto nei suoi primi prototipi, si rese conto che la visione di Kamiya era inconciliabile con il futuro della serie. A differenza però di Resident Evil 1.5, quanto fatto fino a quel momento non fu buttato nel cestino, ma piuttosto fu utilizzato come base di partenza per una nuova serie, quello che inizialmente doveva essere Resident Evil 3 e che poi si era trasformato direttamente nel quarto episodio era in definitiva diventato Devil May Cry. Ma questa è un'altra storia e nel frattempo lo sviluppo di Resident Evil 4 era di nuovo al punto di partenza. Il prototipo di Kamiya, comunemente chiamato Stylish, aveva visto uno sviluppo che si era protratto dal 1998 al 2000 e prima di arrivare al Resident Evil 4 che conosciamo oggi, quello uscito nel 2005, ci sono ben altre due revisioni, anzi tre, che sono state accantonate. La prima di queste è quella che viene chiamata Kestol, che fu in sviluppo dal 2001 al 2003, ma arrivati a questo punto il progetto era già diventato un'esclusiva Gamecube. Come mai? Questo perché Mikami si era stufato di Sony e di PlayStation 2 e aveva intenzione di affacciarsi su altre console. E preparatevi perché qui la storia diventa assurda. Prima di chiudere un accordo di esclusività con Nintendo, Mikami ebbe un incontro con Kevin Bacchus, il co-creatore di Xbox, per capire se fosse possibile collaborare con Microsoft. L'unico problema è che Bacchus non parlava giapponese, quindi l'incontro avvenne con degli interpreti istruiti dal dirigente. Il tutto mentre Bacchus assisteva in silenzio. Bacchus non capì nulla di quello che veniva detto e si ritrovò di fronte a un Mikami a dir poco spazientito, che improvvisamente si alzò, fece un inchino e se ne andò. Il traduttore disse a Bacchus che Mikami aveva confermato di essere stufo di programmare su PlayStation 2, ma che il suo team veniva ricompensato con dei bonus in base alle vendite dei giochi. Aveva quindi bisogno di un motivo per abbandonare il porto sicuro di PlayStation. Per Mikami Nintendo vedeva i giochi come giocattoli creati dal geniale Shigeru Miyamoto. Per Sony invece i giochi erano un intrattenimento reso possibile dalle potenzialità delle motion engine. Ma cosa aveva da offrire Microsoft al director e a Capcom? Per Bacchus la risposta era ovvia. L'obiettivo di Microsoft con Xbox era quello di creare dei giochi che sarebbero potuti essere considerati come arte, esattamente come accade con i film. Risposta che piacque parecchio all'interprete, che purtroppo però non era al corrente delle intenzioni dell'azienda e che quindi rispose alla richiesta di Mikami con una scena muta. Un silenzio che fece andare su tutte le furie al director che abbandonò la stanza senza alcuna intenzione di tornare indietro. L'unica possibilità che Resident Evil 4 fosse un'esclusiva Xbox si volatilizzò in un secondo e dopo il fallimentare incontro Mikami strinse un accordo con Nintendo dove si impegnava a rendere Resident Evil 4 un'esclusiva Gamecube, garantiva a Nintendo una copertura completa di tutta la serie di Biohazard sul cubetto e convince anche Capcom a supportare la console Nintendo con 5 produzioni in esclusiva. I Capcom 5, così furono nominati, consistevano in appunto Resident Evil 4, Project Number 03, Beautiful Joe, Killer7 e Dead Phoenix. Sebbene inizialmente tutti questi progetti nascevano come esclusive pensate per aiutare il Gamecube nel riguadagnare terreno nei confronti di PlayStation 2, le promesse di Capcom e dei suoi dirigenti furono ben presto riviste in seguito a dati di vendita tutt'altro che entusiasmanti e addirittura Dead Phoenix non vide mai la luce. Ma Mikami era così convinto di quello che raccontava mentre promuoveva Resident Evil 4, un titolo che ancora non esisteva, da arrivare addirittura ad affermare che se mai il gioco avesse raggiunto altre piattaforme si sarebbe tagliato la testa. Insomma, sapete tutti com'è andata a finire, no? Se non altro lo stesso Mikami nel corso degli anni ci ha scherzato su e anche più volte. Ma bene, andiamo con ordine, siamo alla seconda riscrittura di Resident Evil 4. Kamiya ha abbandonato il progetto per lavorare prima su Devil May Cry e poi su Beautyful Joe e per ora abbiamo solo la console di destinazione, il Gamecube. Ma si tratta di un nuovo hardware e gli sviluppatori non hanno assolutamente alcun tipo di familiarità con la sua architettura. E in tutto questo Mikami continuava a rivestire il ruolo di producer, mentre le redini del progetto furono affidate a un nuovo director, ovvero Hiroshi Shibata, uno sviluppatore che già aveva occupato un ruolo marginale durante la produzione di Resident Evil 3 Nemesis. Dopo l'abbandono di Kamiya, questa nuova versione fu mostrata con un trailer al TGS 2002 e conservava nel suo DNA alcune caratteristiche del lavoro svolto fino a quel momento. Le ricerche fatte sull'architettura europea furono riutilizzate nel setting principale dell'avventura. Tony Redgrave lasciava il posto al ritorno di Leon Kennedy, che si doveva infiltrare in un antico castello che fungeva da quartier generale dell'Umbrella. Il nemico principale era questa nebbia tentacolare che nelle battute iniziali del gioco infettava il protagonista con un virus che lo avrebbe portato a sperimentare numerosi effetti collaterali durante il corso del gioco. Sugimura, di nuovo responsabile della storia, questa volta fu affiancato da un altro scrittore, Yasuisa Kawamura, e insieme aggiunsero la presenza di una ragazza prigioniera in un laboratorio in profondità del castello che era accompagnata da un cane mutante. Purtroppo anche in questo caso il team incontrò numerose difficoltà in sede di realizzazione. Sebbene il tono si riavvicinasse a quello classico della serie, i programmatori non riuscirono a creare né una versione convincente della nebbia, un personaggio troppo complesso per l'hardware Gamecube, né un sistema di allucinazioni che accompagnasse in modo convincente la degenerazione delle condizioni fisiche e mentali di Leon. Ancora una volta il progetto fu accantonato ma non cestinato. Questo prototipo fu riutilizzato poi nella creazione di un altro iconico survival horror dell'era PlayStation 2, ovvero Haunting Ground. La base gettata con questa build fu fondamentale però per la lavorazione della versione Allucination, il terzo reboot del progetto Resident Evil 4, che fu svelato per la prima volta durante la presentazione Nintendo dell'E3 2003. Ma in quella stessa fiera era presente anche una demo giocabile di 5 minuti. Mentre Sugimura aveva ormai abbandonato il progetto, Kawamura rielaborò ulteriormente il concept delle allucinazioni di Leon, ispirandosi a film come Lost Souls e The Fog di Carpenter. L'idea era quella di sostituire completamente gli zombie con degli eventi paranormali. Il trailer mostrato fu accolto con estremo entusiasmo, sia dai giornalisti del settore che dal pubblico. Il gioco sembrava una radicale evoluzione della classica formula di Resident Evil e i 5 minuti di gameplay erano a dir poco spacca mascella. E ricordo come se fosse ieri l'hype che si creò intorno a questo trailer. Resident Evil 4 era tanto misterioso quanto affascinante. Leon esplorava il castello tramite un sistema di telecamere dinamiche fuori dal controllo del giocatore, ma durante le fasi di shooting la telecamera si posizionava dietro la spalla del protagonista per permettere al giocatore di puntare liberamente e con precisione la propria arma. Il titolo, estremamente cupo e grottesco, accoglieva tanti elementi soprannaturali che tornavano sotto forma delle allucinazioni di Leon, dove delle visioni distorte si sovrapponevano alla realtà. A coronare il tutto, la nebbia lasciava il posto al non meno inquietante Hookman, un inseguitore instancabile che nelle intenzioni del team doveva essere un nemico formidabile. In grado di teletrasportarsi per stare sempre alle calcagna del giocatore e immune ai proiettili, poteva essere indebolito solo tramite l'esposizione alle fonti di luce, come ad esempio i lampi che filtravano dalle finestre del castello. Ma per quanto fossero intriganti queste premesse, il problema fu di nuovo l'ambizione del team. Il sistema di allucinazioni costrinse lo studio a creare una doppia versione di ogni stanza, quella normale e la sua controparte allucinatoria, che sarebbero state caricate contemporaneamente dal sistema per permettere uno scambio repentino, quanto apparentemente casuale. Solo questo sistema però occupava già l'interezza della RAM del GameCube, ancora prima di mettere in conto l'arrivo dei nemici. Il team lavorò a lungo per trovare una soluzione, ipotizzando anche scenari in cui nell'intero gioco sarebbe stato presente un solo nemico, ma questi limiti tecnici divennero un ostacolo insormontabile e Shibata fu costretto nuovamente a cambiare direzione con la produzione. E a questo punto entriamo nella fase che viene comunemente chiamata come zombie, una versione di cui però sappiamo pochissimo e di cui non esiste alcun tipo di footage. Shibata eliminò gli elementi allucinatori delle due precedenti versioni, creando così un Resident Evil molto più classico che questa volta però avrebbe visto un nuovo tipo di nemici umanoidi, i Dabamen, che probabilmente fecero da base ai Ganados. Il problema è che a questo punto il morale era a terra, il progetto era in lavorazione da anni, non sembrava andare da nessuna parte e tutte le persone coinvolte manifestavano una certa stanchezza nei confronti della serie e degli stilemi del survival horror. Lo sviluppo, partito sei anni prima, era ormai costato una fortuna a Capcom e in un modo o nell'altro le lavorazioni dovevano essere completate. Mikami allora strappò il progetto a Shibata e Kawamura e iniziò a lavorare a quella che sarebbe diventata la visione definitiva di Resident Evil 4. Il director non poteva fallire e Capcom fu molto chiara, dal successo di quest'ultimo capitolo sarebbero dipese le sorti della serie. Mikami scelse un approccio radicalmente differente, spinto anche e soprattutto dai deludenti dati di vendita del remake del primo Resident Evil. Il fallimento di Rebirth su GameCube fu un vero colpo al cuore per Mikami, che ormai era convinto che l'industria cercasse altro rispetto allo stampo classico dei survival horror. Se il focus principale dei primi tre capitoli era stato quello di spaventare il giocatore, l'obiettivo di Resident Evil 4 era ora un altro, divertirlo con il gameplay. Ed è qui che quel consiglio dato inizialmente a Camilla, ovvero togli l'horror e rendilo action, ritorna preponderante nel taglio definitivo dato a Resident Evil 4, che abbraccia la natura da b-movie da sempre insita nella serie e l'avvolge in un gameplay dinamico e dal ritmo antitetico rispetto al passato. Ed è incredibile come il prodotto finale sia la risultante di tutte queste differenti visioni che si sono succedute nel corso degli anni e che sono sopravvissute in un modo o nell'altro nel lavoro di Mikami. È interessante ad esempio notare come la scelta della telecamera dietro le spalle di Lyon sia nata, secondo lo stesso Mikami, dopo aver giocato a Onimusha 3. È vero, il puntatore si era già visto nella demo Allucination, e se non fosse stato per i limiti tecnici di PlayStation 1 i fondali pre-renderizzati sarebbero stati già abbandonati da tempo, ma qui la visuale over the shoulder diviene la principale e unica impostazione di gameplay. E la suggestione più recente arrivava appunto da Onimusha 3, perché in questo gioco il sistema di telecamere dinamiche era ormai troppo limitante e per quanto il gioco fosse piaciuto a Director sentiva l'esigenza di un nuovo modo di interpretare il gameplay in terza persona. Ma badate bene, siamo lontani anni luce dalla fluidità di controllo che sperimenterete oggi nel remake. Pur con un importante cambio di prospettiva, forse una delle trovate di gameplay più influenti degli ultimi 20 anni, il gioco rimaneva ancorato ai tank control e presentava alcune rigidità strutturali oggi inconcepibili, come l'impossibilità di muoversi mentre si mira. E questo classicismo di Resident Evil 4 è riscontrabile anche nella versione giapponese per Gamecube, che nei segmenti di Ashley conservava la telecamera fissa, rimossa poi nell'edizione occidentale. Ad amplificare la sensazione di rottura rispetto al passato ci pensavano poi i nuovi nemici. Le orde di zombie venivano sostituite dai Ganados, degli avversari molto più intelligenti e reattivi che richiedevano appunto un nuovo modo di interpretare gli scontri a fuoco. Il senso di angoscia dettato dalla limitazione di movimenti e risorse lasciava ora il posto a un continuo senso di accerchiamento. Un'impostazione sì, decisamente più arcade, ma che richiedeva anche un approccio strategico al giocatore. A corredare il tutto poi ci pensava una presentazione grafica veramente fuori dal mondo. L'impatto visivo di Resident Evil 4 era qualcosa di veramente next gen, una realizzazione tecnica che metteva in mostra tutti i muscoli del Gamecube. Ma con buona pace della testa rotolante di Mikami, l'esclusività di Resident Evil 4 si perse ancora prima della pubblicazione del gioco, quando Capcom annunciò a pochi mesi dal debutto sul cubetto che il titolo sarebbe arrivato anche su PS2 entro la fine del 2005. E mi duele dirlo, ma è giusto così. Non avrebbe avuto alcun senso confinare un titolo talmente rivoluzionario all'interno di una console come il Gamecube. E credo che Resident Evil 4 sia uno dei titoli con più porting di sempre, essendo stato pubblicato praticamente su qualsiasi piattaforma esistente, ma a volte promuovendo degli interessanti miglioramenti alla formula, come ad esempio nella versione adattata a Emotion Control di Wii o nell'edizione ripensata per la VR. Resident Evil 4 rappresentò il picco qualitativo della serie, un titolo che fece da sparti acqua nell'industria videoludica, ma anche nell'economia del brand. Dopo il quarto episodio non si riuscì più a trovare quel perfetto equilibrio tra gameplay, atmosfera e identità, con prodotti come Resident Evil 5 e il suo seguito, che andavano progressivamente ad abbandonare le radici horror di Biohazard per proporre qualcosa di diverso e meno ispirato. Il perfetto equilibrio di Resident Evil 4 rimane un picco qualitativo mai eguagliato. E questa poracci è la storia completa del disastroso sviluppo di Resident Evil 4, una produzione che per anni si è retta sul nulla, dalle cui costole sono nati due titoli importantissimi e che è riuscita a dare vita ad alcuni concept che hanno lasciato un marchio indelebile nel mondo dei videogiochi. Spero che questo video lunghissimo vi sia piaciuto e spero soprattutto che oggi vi riusciate a godere il remake di Resident Evil 4. Io non vedo l'ora di provarlo. Vi ringrazio di nuovo per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di Resident Evil 4, se conoscevate la storia del suo sviluppo e non mi resta che augurarvi un buon weekend e darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi mi raccomando, fate bravi, riposatevi, dormendo, Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Re, Michele 4, Remake, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Non è assolutamente mezzanotte. No, 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 no.